Una legislatura contraddistinta da un'elevata produttività, da sobrietà e trasparenza e da una significativa presenza da parte di tutti i consiglieri regionali, superiore all'85%. Questa è in sintesi l'analisi del Presidente del Consiglio regionale, Lino Boeti, che ha tracciato il consueto bilancio di fine anno dell'Assemblea di Palazzo Lascaris, l'ultimo prima del voto della prossima primavera. È un Consiglio regionale in cui maggioranze d'opposizione hanno lavorato, ognuno naturalmente con le proprie idee, i propri progetti politici, nel rispetto uno dell'altro. Non abbiamo fatto sedute notturne, che erano figlie dell'ostruzionismo esasperato, non abbiamo fatto nemmeno una serale, che era figlia dell'ostruzionismo esasperato. Ci siamo confrontati per 372 giorni in una legislatura, quindi è come se il Consiglio regionale si fosse riunito tutto l'anno, ogni giorno, quindi su un lavoro, diciamo così, straordinario. Numeri alla mano, le sedute di commissione nel corso della legislatura sono state più di 1200, 302 nel 2018, 372 invece le sedute dell'Assemblea 82 nel corso dell'ultimo anno. Sono stati presentati 335 progetti di legge e 221 proposte, che dicono dall'ufficio di presidenza, hanno contribuito a svecchiare e snellire la macchina amministrativa. Tra le altre sono state varate nuove leggi per il contrasto all'usura, per combattere il bullismo e la violenza di genere. Sono stati rinnovati gli strumenti di contrasto all'inquinamento luminoso e l'intero sistema integrato dei rifiuti. Inoltre, in ambito sanitario, sono state approvate le norme che permettono l'utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche. Ci sono ancora molti disegni di legge depositati che sono già usciti dal Consiglio regionale, ma ne abbiamo approvate 82, però su più di 300 disegni di legge presentati. Qualche legge non è stata approvata perché non c'era l'accordo né all'interno della maggioranza né all'interno dell'opposizione, però questo si verificherà in tutte le legislature, non tutto quello che si pensa di fare viene fatto. Infine, il bilancio del Consiglio. Nel corso dell'ultima legislatura, grazie a un riordino dell'organizzazione, la spesa corrente è passata da 64,5 milioni di euro del 2014 a 42,5 milioni del bilancio 2018.